Floridia, giovane pregiudicato e arrestato per ripetuta evasione dagli arresti domiciliari. Arrestato un giovane pregiudicato di 24 anni per furto e spalcio di stupefacente per tali reati era stato opposto agli arresti domiciliari. I carabinieri della tenenza di Floridia l'hanno beccato fuori dall'abitazione. Nonostante la misura restrittiva, il giovane durante i vari controlli dei soggetti sottoposto agli arresti domiciliari è stato sorpreso dalle pattuglie in diverse circostanze mentre si allontanava senza motivo dalla sua abbinazione. I carabinieri hanno relazionato le violazioni dall'autorità giudiziaria che ha emesso un provvedimento di aggravamento di misura cautelare e pertanto lo hanno arrestato nuovamente, questa volta traducendolo in carcere.